Ci hanno segnalato una cosa sgradevole, ci hanno detto che non guardate le Iene. Sì, io che ne so, io non guardo mai voi. Ma perché? Che ne so, ma lei chi è? Io sono Nina delle Iene appunto. Ah, intanto secondo quello che è, me interessa, lo guardo. Allora signora, ci guarda dal 13 di febbraio? Sì. Grazie. Sì, grazie. Le Iene, giovedì alle 21 e 26, su Italia 1.